La paia come il ristorante è buono, hai visto che c'è un sapore. Allora, me la dice la ricetta? Allora, le cipolline, dopo che si vengono smurciate, si fa una pentola con acqua e aceto. Diciamo, tre quarti di acqua e un quarto di aceto. E si fanno sbocchiali. Poi, non devono cuocere troppo, devono essere un po' più. Ti mettono a scolare e poi si prepara il caramello. Ti mettono un po' dell'acqua che è rimasta della cipollina e se ci mettono le cipolline in una padella. Si aggiunge lo zucchero fino a caramellare. Quanti minuti ho fatto? Ma questo poi è cinque minuti. La cottura principale è la cipollina. E quella quanto necessita? 20 minuti. Le cipolline a che cipolline devono essere? Le borrettane, queste che vendono anche a me. Le cipolline borrettane. Si chiamano cipolline borrettane. La ricetta come si chiama? Cipolline caramellate. Caramellate. E le prepara? Come si chiama? Lo chef Bon Ponzo. Come? Ponzo. E di nome? Ponzo. Roberto. Roberto Ponzo del ristorante Al Veliero. Al Veliero, si. A Siracusa, in Ostincia. Grazie.